buongiorno a tutti oggi è martedì 17 ottobre sono le 9 26 e su dax ho iniziato a mettere un allarme qui voi direte ma perché un allarme lì e per determinati motivi perché qui è uno di quei livelli di volumi che non potete vedere che è importantissimo non soltanto su dax ma anche mostruosamente su mib ok e il superamento meno di quest'area ci farà capire probabilmente se avremo una ripartenza av o av doppia ok per adesso su mib sembra più av abbiamo fatto un minimo stiamo salendo non abbiamo fatto una discesa particolare mentre invece su dax sembra già più av doppia discesa massimo seconda gamba della v e vediamo ok proseguimento o meno della discesa lo sapremo grazie probabilmente a questi livelli tra l'altro oggi ci sarà house of trading nuova puntata alle ore 17 30 come al solito metterò il link in descrizione sotto il video di youtube se avete piacere di scrivermi qualche cosa di fare domande di partecipare attivamente alla puntata fatelo perché c'è una chat attiva in cui potete chiedere qualsiasi genere di informazione sull'analisi ciclica voluta analisi è voluta e quindi se avrete piacere di vedere come si costruisce un altro trade e oro è andato benissimo dopo aver agganciato la discesa o riagganciato con un vecchio trade la salita ed è volato su nonostante la difficoltà a concepire trade a due ore di distanza da quando poi c'è la trasmissione quindi senza poter vedere due ore in avanti devo dire che sono molto soddisfatto di quello che sta questo quello che sta accadendo per cui se avete piacere 17 30 oggi cercate investimenti ben per pari va iscrivetevi cliccate sulla campanellina per sapere quando sarà ci sarà la prossima puntata dopo quella delle 17 30 di oggi torniamo noi se avremo la chiusura del secondo t meno 3 inverso secondo ciclo giornaliero inverso a 44 barre candela rossa che però inizia poi a farci scendere e non avremo avuto una partenza di un terzo t meno 3 inverso dovremo iniziare piano piano a scendere proprio a partire da questa che la 45esima barra che non verrà contata nell'inverso se appunto sarà rossa ok rimarrà rossa perché perché avremo una chiusura di b giornaliero di t meno 2 inverso 1 e 2 e quindi potremo avere una discesa per ritornare su questi livelli prima e poi vedremo perché come vedete gli indicatori che ancora chi all'inizio del trading vi dice che sono importantissimi che hanno l'indicatore magico piuttosto che si piegano anche ed evitano di andare in death cross e portare discesa quando arrivano i volumi i volumi sono molto più importanti rispetto agli indicatori gli indicatori come vedete fanno e magari si girano al contrario e si continuano a salire per questo motivo fate attenzione a chi ancora nelle pubblicità vi racconta di questa roba ok meglio vedere se ci sono altre opportunità per quanto riguarda il dax siamo un livello molto simile qui non abbiamo fatto movimenti particolari il terzo di meno 3 inverso può essersi chiuso su questo massimo oltre 32 barre qui può esserci stata una bella finta rialzo e adesso ci sarà discesa quindi in campana ok noi siamo estremamente prudenti in questi giorni a fare trade perché non vogliamo trovarci dalla parte sbagliata spero che sia una cosa condivisibile direi che tutto vi ringrazio per il vostro tempo e per i livelli di ergo ritmo di rimando al gruppo premium arrivederci grazie 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 grazie